Musica Bene ritrovati, prima serata live come ogni venerdì su Tele Pavia e su Tele Sanremo è una puntata particolare, quella che ci accingiamo a vivere insieme perché più tardi nella seconda parte parleremo di immigrazione che a pochi giorni dalle votazioni per le europee del 25 maggio sembra diventato l'unico argomento su cui anche la politica italiana si divide sapete che dall'inizio dell'anno gli sbarchi di migranti nel sud Italia sono aumentati dell'800%, un'emergenza umanitaria che da sola l'Italia non è in grado però di affrontare e chiama in causa l'Europa la quale però a quanto pare non riesce, non vuole intervenire inevitabilmente andando a votare molti italiani penseranno proprio a questa emergenza noi cercheremo di capire perché in studio più tardi ci raggiungeranno alcuni ospiti con cui affronteremo questo tema molto caldo sul quale, ve lo anticipo subito, vogliamo sentire anche le vostre opinioni di voi che ci seguite da casa allora vi presento subito Chiara Cendali alla nostra postazione multimediale buonasera Chiara e bentornata buonasera Claudio, buonasera a tutti bentornati ricordiamo subito l'argomento di cui parleremo nella seconda parte questa Europa che a quanto pare è sorda, non ascolta gli appelli dell'Italia che dice Bruxelles aiutaci ad affrontare l'emergenza migranti che cosa fare per interagire con noi? scriveteci all'indirizzo mail diretta chiocciolaprimaseratalive.it ho mandato un sms al numero 366 11 88 002 scriveteci da subito perché poi vogliamo davvero dar voce anche a voi che ci seguite da casa ma nella prima parte di questa puntata dicevo un po' particolare di prima serata live ospiteremo un'intervista che abbiamo realizzato pochi giorni fa ad Arcore a Silvio Berlusconi il leader di Forza Italia sapete che non è direttamente impegnato in campagna elettorale ma è comunque sulla scena politica e a lui chiederemo di aiutarci a capire l'importanza di questo voto comunitario ho tenuto conto che proprio Berlusconi è stato uno dei più critici nei confronti dell'Europa eppure oggi è uno di quei leader politici che dice italiani andate a votare cercheremo di capire come mai di questo cambiamento di opinione sul tema ma con lui inevitabilmente parleremo anche di politica italiana il governo Renzi fino a che punto potrà contare sull'appoggio di Forza Italia per fare le riforme di questo e altro parleremo in questa puntata di prima serata live e allora subito l'intervista a Silvio Berlusconi leader di Forza Italia e poi ci ritroveremo in studio per parlare di immigrazione vi aspettiamo Presidente Berlusconi intanto grazie per averci accolto a Villa San Martino e per il tempo che ci concederà questa sera grazie a lei dottor Michalizio grazie di cuore Partiamo dalla scadenza elettorale del 25 maggio i politologi paventano da una parte un aumento dell'assenzionismo dall'altra un possibile anche incremento di quelle forze politiche che sono anti-europeiste lei che non è mai stato tenero nei confronti dell'Europa quantomeno di questa Europa da settimane si spende per chiedere agli elettori in modo particolare quelli dell'area politica qui lei fa riferimento invece di andare a votare ci spiega il perché? beh perché è molto importante cercare di influire sulle cose dell'Europa che votate al Parlamento europeo riguardano anche il nostro paese e i nostri concittadini e l'unico modo per sperare di poter riuscire a fare qualcosa di concreto è quello di riuscire a mandare in Europa un folto nucleo di parlamentari di Forza Italia che in Europa faranno parte della grande famiglia della democrazia e della libertà che è il Partito del Popolo Europeo il Partito Popolare Europeo nelle assemblee, nei summit del Partito Popolare Europeo si prenderanno delle decisioni allora questi nostri parlamentari se saranno un gruppo importante facendo rete con tutti gli altri parlamentari degli altri paesi a partire dai paesi mediterranei potranno avere influenza sulle decisioni che si assumono le decisioni che si assumono si trasformeranno nel Parlamento europeo nel voto del Partito Popolare Europeo che è stato maggioranza in questa legislatura sarà molto probabilmente maggioranza nell'altra legislatura quindi attraverso questo passaggio di influenza sulle decisioni del Partito Popolare noi potremo avere il Parlamento che vota nella direzione che noi abbiamo inteso fosse la migliore per noi Lei qualche giorno fa ha detto bisogna andare in Europa a battere i pugni sul tavolo cito a memoria questa affermazione Sì, non credo di averlo detto io me l'hanno attribuito bisogna andare in Europa a fare quello che ho fatto io fino a quando ci sono stato io io al tavolo dei capi di Stato e di governo riuscivo a trovare l'accordo con tanti altri colleghi e ho detto no a molte cose le dico ho detto no alla Tobin Tax poi è arrivato Monti si è inginocchiato e siamo l'unico paese che ce l'ha adesso in 11 paesi noi compresi hanno deciso di averla per il momento avendo noi messo una imposta sui trasferimenti finanziari i trasferimenti finanziari sono andati in gran parte da un'altra parte da un altro paese ho detto no sul buco dell'ozono su quello che volevano fare ho detto no sul fiscal compact così come l'avevano concepito addirittura ho avuto il coraggio perché è quasi un sacrilegio di mettere il veto sul tavolo ho fatto sospendere il consiglio dei capi di Stato e di governo e per tre ore ho trattato con Juncker sul fatto che ci fossero delle particolarità che riguardavano il nostro paese da introdurre io sono riuscito a convincerlo ho scritto di mio pugno due emendamenti quando il consiglio ha votato il fiscal compact questi due emendamenti hanno fatto corpo con le altre norme purtroppo poi è arrivato il signor Monti il governo ricordo e sottolineo non eletto dagli elettori ma imposto dall'alto e si è adeguato alle richieste della signora Merkel e addirittura ha fatto votare dal Parlamento italiano la legge senza questi due emendamenti io ero all'estero mi hanno telefonato ce ne siamo accorti abbiamo immediatamente fatto votare due ordini del giorno che contenevano questi emendamenti e questi ordini del giorno saranno gli argomenti con cui i nostri ministri andranno col governo europeo a dibattere sul fiscal compact in soldoni io feci allora il calcolo che noi avremmo dovuto secondo questa nuova norma ridurre il nostro debito di 50 miliardi all'anno cosa impossibile facendo ragionare Juncker e poi gli altri sul fatto che noi eravamo la seconda economia più solida in Europa perché un'economia come un'azienda non si misura dal debito che allora era 1967 miliardi mila miliardi e invece adesso è 2.200 e passa allora io dissi dovete guardare questo è il passivo dovete guardare l'attivo l'attivo erano 8.000-9.000 miliardi e quindi un'azienda un paese che ha 2 di passivo contro 9 di attivo è un paese un'azienda solidissima 2. gli dissi non sono d'accordo che il nostro debito corrisponde al 127% del nostro prodotto interno lordo del PIL perché voi calcolate il nostro prodotto interno lordo sulla base solo del prodotto emerso e mettete dentro per non so quale cervellotica idea un 17% soltanto che riguarda il nostro prodotto sommerso che invece è vero prodotto perché da posti di lavoro non dà entrate all'erario e questo è per noi però c'è un'intera parte del paese che si regge in questa maniera allora sommando al prodotto emerso il prodotto sommerso la percentuale del 127% scendeva sotto 100% e la media dei paesi dell'euro era di 94% quindi la cifra che andando corso alla fiscal company noi avremmo dovuto ridurre sul nostro debito scendeva da 50 miliardi intorno ai 10 miliardi ora le cose però sono cambiate perché la crisi si è aggravata e quindi anche questi 10 miliardi sono antistorici quindi noi dobbiamo essere in grado in Europa di chiedere che uno questo fiscal compact sia o abrogato del tutto o rimandato nel tempo insieme a questo dobbiamo chiedere una moratoria anche per quel 3% di differenza del deficit sul PIL che noi oggi dovremmo usare per dare uno shock all'economia trasformando questo 3% in una diminuzione delle tasse per fare questo bisogna che si sia capaci di farsi valere bisogna che si sia capaci di fare gruppo con gli altri e che non si vada in Europa già con l'intenzione di dire sì a tutto quello che viene proposto dalla Germania le faccio un esempio molto attuale quando il mare si tratta al meglio si prevede un arrivo di un milione di emigranti dall'Africa sulle nostre coste abbiamo varato questo governo varato un'operazione Mare Nostrum con cui addirittura sono le nostre navi che vanno a raccogliere questi emigranti a 30-40 miglia dalla costa africana fuori dalle acque territoriali questa operazione intanto ci costa molto sia per quel che avviene in mare e poi questi emigranti arrivano qui vanno nei nostri centri e si calcola che costino 40 euro al giorno se questi calcoli che non ho personalmente verificato fossero veri pagheremmo circa un miliardo al mese avremo un costo di 12 miliardi all'anno una cifra assolutamente inaccettabile da parte di un solo paese noi siamo per la nostra posizione nel Mediterraneo la frontiera più meridionale dell'Europa e quindi questa situazione del milione o anche più di persone che fuggono da territori infestati dalla guerra da situazioni di pericolo o di infelicità e a cui dobbiamo dare davvero una possibilità di una scelta di vita diversa devono essere persone che tutta l'Europa accetta e allora le nostre richieste sono tre uno che anche gli altri stati europei concorrano con i loro mezzi a queste operazioni di salvamento due che l'Europa concorra con capitali ai nostri costi tre che si formino delle quote per ogni paese europeo e che quindi questi immigrati siano distribuiti nei 27 paesi dell'Europa e non lasciati soltanto sulle nostre spalle come si fa per ottenere questo visto che è stato chiesto e l'Europa così veloce negli imporci vincoli assurdi non ha fatto una piega il mio consiglio è che il presidente del consiglio come avrei fatto io vada a Bruxelles e stia lì fin quando non ottiene questa decisione da parte dell'Europa non deve battere i pugni sul tavolo devono far presente tutti i giorni alla stampa alle televisioni a tutti gli altri protagonisti dell'Europa qual è la situazione e la giusta soluzione che l'Europa deve dare a questa situazione hai parlato del presidente del consiglio è un ottimo assist per parlare anche della politica interna la politica italiana Forza Italia sta collaborando molto con il governo Renzi per portare avanti una serie di riforme che sono delicatissime le chiedo intanto quanta questa collaborazione che parte inevitabilmente anche dal fatto che come è nell'arte della mediazione si fanno no no guardi qua non c'è mediazione alcuna Forza Italia è chiaramente all'opposizione di questo governo però sta dando un contributo importante se questo governo propone una delle riforme dell'assetto istituzionale del paese come ha fatto per quanto riguarda il senato che è una delle riforme che noi avevamo anche già realizzato nel 2005 che poi è stata la sinistra da abrogare attraverso uno sagurato referendum coerenza vuole che se noi avevamo fatto quelle riforme se adesso è la sinistra che allora era un'opposizione che seguiva la via del tanto peggio tanto meglio adesso propone le stesse nostre riforme noi diciamo di sì perché noi non siamo quel tipo di opposizione siamo un'opposizione responsabile che in questi vent'anni tutte le volte che siamo stati all'opposizione non abbiamo mai bocciato un disegno di legge che veniva dalla sinistra perché veniva dalla sinistra noi abbiamo sempre guardato dentro il disegno di legge e se abbiamo ritenuto che il contenuto era positivo per l'Italia e per gli italiani non abbiamo avuto alcuna esitazione a votarlo però ritorno sulla partenza della mia risposta noi siamo all'opposizione di questo governo che voglio ricordarlo è un governo di sinistra sostenuto da una maggioranza di sinistra in Parlamento che fa cose di sinistra ha cominciato con tante 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 promesse che non potranno essere mantenute ma ha cominciato col solito modo della sinistra imponendo un forte aumento delle tasse su quella casa che noi consideriamo sacra e che quindi non deve essere toccata dal prelievo fiscale e sulla imposizione sui risparmi delle famiglie aumentando dal 20 al 26% l'imposta sugli interessi quindi mi sembra che deve essere chiaro che noi siamo all'opposizione di un governo che è un governo di sinistra Presidente in questo momento noi stiamo trasmettendo su Tele Pavia e su Tele Sanremo apro una parentesi per chi ci segue dalla Liguria a Pavia c'è un candidato sindaco che riduce dai primi quattro mandati amministrativi che ha Alessandro Cattaneo che viene indicato come uno dei volti emergenti di Forza Italia a livello nazionale qualche giorno fa Iva Zanicchi addirittura ha detto che ha lo staff per il leader e ovviamente molto più in là nel tempo un giorno chissà potrebbe anche essere avere una posizione apicale tra tanti anni sia chiaro Presidente lei è d'accordo vede in Cattaneo un volto nuovo spendibile a livello nazionale è certamente a livello nazionale un volto nuovo è un sindaco e sarà ancora ritengo sindaco a Pavia molto capace e soprattutto è stato capace di farsi amare e apprezzare dai suoi concittadini tant'è vero che nella lista dei sindaci che sono giudicati positivamente dei cittadini lui è addirittura il numero uno in Italia a lui che abbiamo chiamato anche ad operare a livello nazionale dentro Forza Italia abbiamo affidato la responsabilità della formazione dei nostri candidati alle elezioni amministrative ha lavorato ad un testo che abbiamo adottato come testo di Forza Italia per coloro che candidiamo alle amministrative e quindi io spero che intanto vinca le prossime elezioni e che poi continui questo suo tragitto di crescita e che possa essere tra i leader di Forza Italia poi io non posso dire se questo o quest'altro perché i leader non è che sia il predecessore che mette la mano sulla spalla e li può scegliere i leader sono scelti sempre dagli elettori chi la conosce bene sa che lei ha sempre privilegiato i rapporti interpersonali è una persona che tiene molto all'amicizie e appunto ai rapporti interpersonali le posso chiedere se un giorno Alfano che ancora pochi giorni fa ha detto che votare per Forza Italia vado a memoria è un voto inutile o qualcosa del genere tornasse da lei e le dicesse presidente ho sbagliato tutto non lo so questo però lei cosa direbbe non ucciderei il vitello grasso prossima domanda abbiamo argomenti lei ha vissuto la scorsa settimana la sua prima giornata di servizio presso la fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone le posso chiedere che cosa le è rimasto di questa esperienza che lei sin dalla vigilia ha detto sarà sicuramente importante e immagino anche toccante ma guardi io ho consuetudine già al rapporto con le persone anziane e anche con le persone anziane che sono afflitte da questa gravissima malattia che è l'Alzheimer e tra l'altro conosco anche la malattia perché ha toccato persone che io conoscevo da vicino e quindi sono andato alla Sacra Famiglia ho impiegato metà del tempo a rapportarmi con i dirigenti che ho trovato delle persone splendide e dei veri missionari poi sono passato a incontrare gli operatori cosiddetti di base tutte le persone prevalentemente giovani che hanno sotto cura un certo numero di anziani e poi ho parlato con queste persone queste persone sono in diverse fasi non c'è nessuno che è nella fase dell'amnesia sono molto più avanzati sono nella fase addirittura dell'aprassia cioè non sanno muoversi e curare se stessi e sono molti nella fase dell'afasia cioè non parlano con quelli che parlano ho discusso ho trovato quattro o forse cinque milanisti a cui ho promesso di portare la prossima volta una maglia del Milan e gli orologi del Milan e quindi ho iniziato un rapporto cordiale con le persone che potevano contraccambiare io spero di poter dare un aiuto concreto a questa istituzione alla Sacra Famiglia e devo dire che non è nulla di nuovo per me perché la mia mamma si era presa come missione quella di andare tre giorni alla settimana a visitare i ricoveri per anziani aveva cominciato ad andare a trovare delle sue amiche di gioventù che erano ricoverate e poi da questo ha visto che poteva portare un contributo affettivo e anche di aiuti concreti e io molto spesso l'ho accompagnata ci sono in certe situazioni degli interi riparti che portano il nome di mia madre ecco quindi non ho mai guardato a questa penalizzazione come a una penalizzazione ho guardato come a un fatto che mi toglie dal pieno del mio consueto impegno di una settimana e mi da quattro ore di diversità innanzitutto il divertimento vuol dire divertere da ciò che fai normalmente e sono sicuro che mi porterà anche un personale arricchimento durante la settimana perché fare del bene fa bene soprattutto a chi lo fa Presidente lei è stato a Milano sabato per una manifestazione dedicata agli amici animali e quest'anno abbiamo capito quanto attenzione anche in un invito ad accogliere nelle proprie famiglie i cani lei voglia dedicare cosa risponde a chi dice che in realtà lei starebbe facendo tutto questo soltanto per cercare voti dunque intanto io ricordo che le uniche leggi che hanno dichiarato questi animali come senzienti cioè delle creature che provano il dolore che hanno dei sentimenti positivi o negativi e che quindi noi già nel 2010 abbiamo apportato all'approvazione del Parlamento numerosi leggi abbiamo introdotto per esempio il divieto facendone un reato con una pena importante dell'allevamento di cani gatti e scimiette per degli esperimenti vivo su di loro abbiamo introdotto delle pene per l'abbandono di questi animali per una pena forte per l'uccisione non per difesa e con crudeltà degli animali stessi abbiamo per esempio vietato il divieto nei regolamenti condominali al possesso di cani e gatti da parte degli inquilini e abbiamo insomma costruito una prima fase di attenzione e di rispetto al welfare di questi nostri amici abbiamo fatto molti passi in avanti e abbiamo depositato 23 disegni di legge alla Camera dei Deputati riguardanti ciascuno un aspetto perché non ne abbiamo fatto un tutt'uno perché un disegno di legge di questo tipo passa in un attimo se invece si portava un codice campacavallo 400 620 giorni bene per cui noi da sempre siamo attenti a quelli che costituiscono degli oggetti d'amore da parte di diversi milioni di italiani e lo dico e tutte le volte che mi è capitato di dirlo in pubblico ho trovato sorpresa in Italia abbiamo 7 milioni di cani registrati più un milione di cani si presume soprattutto nei piccoli centri non registrati 8 milioni abbiamo 12 milioni di gattini quindi un popolo e un popolo di persone che li adorano abbiamo fatto dei sondaggi bene è venuto fuori che il 92% di coloro che hanno un cane e un gatto lo considerano parte della famiglia il 46% lo fa dormire sul proprio letto il 26% lo fa dormire sul proprio letto sotto le coperte io ho fatto una domanda sbarazzina in uno di questi sondaggi ho domandato alle signore ma se foste poste nella tragica necessità di scegliere tra il cagnolino e il gattino e il vostro coniuge chi scegliereste si sono sfogate il 63% hanno detto sceglieremmo il gattino e il cagnolino non lo farebbero davvero perché se no chi mantiene loro è il cagnolino comunque voglio dirle che da questi nostri sondaggi noi abbiamo preso concretamente atto che nei confronti di questo popolo c'è bisogno di un rapporto e abbiamo anche sinceramente pensato che se noi avessimo fatto qualcosa che poteva illustrarci favorevolmente nei confronti di queste persone queste persone avrebbero potuto anche passare magari dall'indifferenza a darci un voto di solidarietà per esempio e allora abbiamo individuato diverse cose che metteremo nel nostro programma per le prossime elezioni una di queste cose è di affidare a tutte le 12 mila comunità per la democrazia e per la libertà che stiamo formando nel paese e di questo vorrei dire le due cose anche la missione rivolgendosi in particolare ai membri della comunità che hanno dei cagnolini e dei gattini di trovare un papà e una mamma ai cani che sono prigionieri nei canini comunali che sono 150 mila e che costano tra l'altro alla collettività nazionale 260 milioni allora il ragionamento altruistico fatto di generosità è quello di dire facciamo una cosa molto buona perché non solo diamo una migliore esistenza ai cani che liberiamo ma insegniamo alle persone che se li prenderanno quale sia l'amore la lealtà che uno di questi animali può dare a loro ma abbiamo anche forse la speranza che questo ci illustri bene presso un certo numero di lettori che possono dare una mano al nostro progetto fantascientifico di trasformare la maggioranza dei moderati italiani in una vera maggioranza politica organizzata ed è questo il progetto cui io sto lavorando praticamente a tempo pieno perché alla fine di tutti questi vent'anni trovandoci ancora non solo con il pericolo di una presa del potere da parte della sinistra ma con un pericolo in più quello di un movimento il Movimento 5 Stelle che ha un leader grillo che ha le stesse caratteristiche di tutti i peggiori protagonisti della storia che si debba fare qualcosa di diverso rispetto a ciò che si è fatto fino ad ora e che si debba insegnare ai moderati a votare primo non dividersi se no si perde secondo votare compatti nella direzione di un partito liberale e democratico e allora da qui l'idea suggeritaci dalle comunità americane a cui aderiscono 47 milioni di cittadini americani che nasce dal desiderio di molti cittadini americani di superare il sentimento di solitudine la tristezza di sentirsi solo di avere una maggiore partecipazione alla vita sociale di partecipare a queste comunità che durano da decenni che hanno delle finalità che possono cambiare anche nel tempo ma che si basano sulla partecipazione di tutti alle cause comuni e tutti hanno dentro queste comunità una responsabilità un compito e quindi tutti si sentono di partecipare attraverso questa responsabilità all'interesse comune abbiamo fatto questo già molti mesi fa dei sondaggi sugli italiani bene anche tra gli italiani c'è un numero veramente rilevante di persone che vorrebbero uscire da questa solitudine da questo sentimento che hanno che li spinge a cercare amicizia vicinanza simpatia colloquio e allora abbiamo deciso di camminare in questa direzione abbiamo provato a pensare come potevamo montare e quale progetto si poteva montare siamo arrivati a queste comunità sull'esempio dell'America queste comunità allora abbiamo deciso che siano 12.000 perché 12.000 uno perché 5.000 è il numero che abbiamo trovato come numero normale in America possono diventare anche di 10.000 di 3.000 a seconda delle situazioni locali la media è 5.000 queste collettività dentro i 5.000 hanno in media 3.750 cittadini elettori 3.750 cittadini elettori significa che sono gli elettori di 5 sezioni elettorali le sezioni elettorali sono 62.000 quindi con 12.000 comunità abbiamo incrociato le due direzioni copriamo tutte le sezioni elettorali e allora a ogni comunità affideremmo il compito di individuare due persone di buona cultura e di buona capacità dialettica per andare tutti e due dentro ogni sezione e restando attenti dopo una formazione che li metta al corrente di tutta la serie dei brogli che professionalmente alcuni partiti hanno usato e usano soprattutto nell'operazione degli scrutini far sì che quei 25 voti a sezione che una nostra vicinanza a democristiani di sempre esperti di questi problemi ci hanno detto essere quelli che ci sono stati tolti in aumento ai voti loro in diminuzione dei voti nostri alle passate elezioni del febbraio del 2013 fanno in totale 1.600.000 voti quindi noi contiamo le abbiamo chiamate sentinelle del voto attraverso queste comunità che hanno poi delle missioni prima tra tutte quella di aiutare chi dentro l'universo delle 5.000 persone non ce la fa chi ha bisogno e poi quella di occuparsi dell'ambiente e dei beni artistici locali e poi quella di andare incontro a tante tante altre missioni che suggerite ma possono essere aumentate da una singola comunità la seconda cosa che abbiamo dato per i momenti elettorali come compito e responsabilità a queste comunità è che una volta avuti i nomi delle 752 persone che sono elettori in media di ogni sezione il comune è tenuto a dare l'elenco di questi elettori con due persone sveglie abbiamo fatto diversi esperimenti in due giorni si riesce ad individuare gli orientamenti politici di circa 700 di questi elettori in questi elettori si individuano gli elettori del partito democratico su cui non conviene impegnarsi si individuano gli elettori del Movimento 5 Stelle sulla metà dei quali forse è possibile impegnarsi ma soprattutto si individuano quei 350 elettori circa che sono moderati ma che come il 50% del totale degli elettori italiani ha deciso di non andare a votare perché è deluso è amarecciato è disgustato ma anche metà di quelli che votano Grillo sono elettori che sono più che delusi più che disgustati da questa politica da questi politici dentro questa metà ci sono tante persone che hanno perso il lavoro tante persone che non ce la fanno tante persone che sono state vittime della denegata giustizia o della mala giustizia anche nei confronti di questi elettori possiamo avere la speranza di convincerli in che modo? con un contatto personale diretto quindi dentro ogni sezione noi individueremo oltre agli elettori che le ho detto gli elettori che votano per forza Italia e sono diciamo 75 85 in media dentro questi elettori puntiamo soprattutto sulle signore che possono trovare se hanno un lavoro o del tempo dopo il lavoro se hanno da curare portare a scuola i bambini o da accudire loro anziani possono sempre comunque in qualche giorno della settimana ritagliarsi un'ora due ore tre ore per andare su loro amici o conoscenti che sanno non essere di sinistra e portarli a conoscenza delle nostre idee dei nostri lavoratori dei nostri programmi e dei programmi in negativo della sinistra e cercare di conquistarli alla nostra causa poi si può andare oltre agli amici e ai conoscenti col sistema della catena di Sant'Antonio facendo sindicare da loro altri amici e altri conoscenti a cui essere presentati e poi c'è un sistema che è il sistema del porta a porta io lo conosco perché ho venduto un mare di abbonamenti a delle riviste dei Salesiani gioventù missionaria eccetera eccetera posso assicurare che quando si suona a una porta di una persona anziana che vive solo o anche con il proprio coniuge il fatto che queste persone si trovano di fronte una persona che appare subito come una persona per bene simpatica dal volto piacevole dagli occhi trasparenti una persona che ti spiega bene le cose e che ti sa anche ascoltare già questo è un regalo già questo è una giova per una persona anziana e siccome in quei 24 milioni che sono quel 50% di elettori italiani che dichiarano di non volere andare a votare ci sono il 40% di persone che hanno dai 60 anni in su noi contiamo soprattutto nei confronti di queste persone a cui noi abbiamo già dimostrato di essere delle persone che capiscono i loro problemi io sono l'unico presidente del consiglio che ha aumentato la pensione a 1.850.000 pensionati italiani nel nostro programma c'è anche l'aumento garantito a 800 euro ma puntiamo ai 1000 euro per tutti coloro che sono in pensione apro una parentesi una pensione anche per quelle signore il cui lavoro non è mai considerato che sono le persone che lavorano in casa le casalinghe anche per loro noi prevediamo di poter garantire una pensione di 800 euro che può essere aumentata di 200 euro proveniente dal fondo per le casalinghe e quindi che possono guardare con serenità il loro futuro potendo contare su una pensione di 1000 euro ritorno agli anziani io ho la certezza dentro di me che con queste persone noi possiamo pensare di arrivare a dei fantastici risultati ma se i risultati fossero risultati minori su 24 milioni di cittadini che cercheremo in parte di andare a incontrare noi potremmo convincerne uno su dieci fanno 2 milioni 400 mila elettori più 1 milione 600 mila elettori dei voti che non dovremmo più farci sottrarre fanno 4 milioni di voti già con 4 milioni di voti noi riusciremo ad essere il primo partito avere una grande maggioranza in Parlamento a dare vite a sostenere un governo tutto nostro che potrebbe finalmente fare quelle riforme dell'assetto istituzionale che renderebbero governabile governabile l'Italia credo che lei le conosca le avevamo già fatte nel 2005 il Presidente del Consiglio che abbia finalmente gli stessi poteri dei suoi colleghi occidentali un Consiglio dei Ministri che possa intervenire con il decreto legge cosa che oggi spetta invece al Presidente della Repubblica sulle urgenze un disegno di legge che vada in una sola Camera possibilmente dimezzata nel numero dei componenti che abbia un termine perentorio di 90 120 giorni per approvare il disegno di legge una Corte Costituzionale dove i Presidenti della Repubblica non possono mettere 5 loro amici di sinistra e infine riconoscere ai cittadini finalmente di non dover accettare un Presidente della Repubblica scelto in una stanza chiusa da 3, 4, 5 segretari di partito ma di potere eleggere loro direttamente con il loro voto un loro davvero Presidente della Repubblica io le posso assicurare che ho la certezza assoluta che se gli ultimi 3 Presidenti della Repubblica fossero stati scelti dai cittadini avremmo avuto dei Presidenti della Repubblica assolutamente diversi e migliori rispetto ai 3 che abbiamo avuto Presidente Berlusconi io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato auguro buon lavoro in bocca al lupo e davvero grazie ancora per averci accolto ringrazio lei attraverso di lei porgo i miei saluti più cordiali a tutti i cittadini della vostra splendida città grazie e siamo tornati nello studio di prima serata live dopo questa lunga intervista registrata da Arcore dicevamo pochi giorni fa con Silvio Berlusconi avete sentito un po' tutti i temi del dibattito politico avete sentito anche toccare il fil rouge che collega queste due parti della nostra puntata di questa sera come ogni venerdì su Tele Pavia e Tele Sanremo l'Europa l'Europa che è chiamata anche a dare risposte all'Italia in materia di emergenza migranti siamo in un periodo di sbarchi si succedono praticamente a ritmo quotidiano addirittura una statistica pochi giorni fa diceva che sono aumentati dall'inizio dell'anno pensate dell'800% è evidente che l'Italia da sola non ce la può fare ma Bruxelles sinora a quanto pare non ha ritenuto opportuno non è riuscita non sa come intervenire cercheremo di capire anche questo questa sera in una puntata di prima serata live con gli ospiti che vado subito a presentarvi intanto due voci della politica che discutono quasi quotidianamente di questo tema a cominciare da Maurizio Niutta del nuovo centrodestra intanto benvenuto avvocato buonasera grazie a lei e ai telespettatori nuovo centrodestra che è la forza politica il cui leader Angelino Alfano è tra l'altro ministro dell'interno quindi si trova in prima persona a dover gestire questa emergenza quotidiana per dar voce alla Lega Nord c'è con noi Angelo Ciocca bentornato buonasera 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 a tutti tra le forze politiche dell'opposizione il carroccio è quello che con più forza dice guardate che l'Italia non può prendersi carico di tutti questi disperati che arrivano nel nostro paese e poi per cercare di inquadrare l'emergenza italiana nel più ampio contesto internazionale abbiamo chiamato Andrea Matricardi di Amnes International buonasera buonasera Amnes International associazione che pone i diritti dell'uomo soprattutto dei più deboli al centro della propria missione quotidiana su scala globale appunto e poi ovviamente risaluto ancora Chiara Cendali bentornata buonasera Claudio buonasera a tutti bentornati chi ci segue dal primissimo minuto di questa puntata già lo sa perché avevamo anticipato l'argomento parleremo di immigrazione e infatti moltissimi già ci hanno scritto tra poco vi daremo voce però Chiara ricordiamo ancora una volta come fare per mettersi in contatto con noi dello studio scriveteci all'indirizzo mail diretta chiocciola primaseratalive.it o mandate un sms al numero 366 118 002 e allora siccome inevitabilmente la questione immigrazione è uno dei temi sui quali verte la campagna elettorale delle prossime europee la domanda che ci poniamo è ma dobbiamo fidarci dell'Europa come banco di prova ponendo proprio la questione migranti il nostro servizio di introduzione Gli effetti di sei anni di crisi economica e i vincoli di bilancio imposti agli stati membri le polemiche sulle regole ma anche sulle direttive più assurde come la corretta curvatura dei cetrioli sono solo alcuni degli aspetti che secondo i sondaggi rischiano di favorire alle urne il trionfo degli euroscettici ma le prossime elezioni per il rinnovo dei vertici europei rischiano di essere condizionate soprattutto dalle polemiche sull'emergenza migranti che da settimane tengono banco per i continui sbarchi di disperati sulle coste meridionali della penisola ma anche per le correlate polemiche politiche solo nei primi quattro mesi dell'anno gli arrivi di persone in fuga dalla miseria o dalla guerra sono cresciuti dell'ottocento per cento un'emergenza umanitaria drammatica qui l'Italia risponde di fatto da sola nell'indifferenza di Bruxelles e dei partner europei ma la scelta del nostro paese di soccorrere i barconi nel canale di Sicilia con una spesa quantificata in circa 9 milioni di euro al mese è anche fonte di scontro politico costante cancelliamo l'operazione Mare Nostrum che è un'operazione demenziale stiamo aiutando con i soldi degli italiani gli scafisti a lasciare in mezzo al mare migliaia di disperati senza futuro senza casa e senza lavoro che poi manteniamo noi con 30, 40, 50 euro al giorno quindi spendiamo in Africa questi soldi e blocchiamo e spegliamo e respingiamo facciamo rispettare i confini e le leggi come fa tutto il mondo civile il governo invece rivendica la bontà dell'operazione Mare Nostrum che ha permesso di salvare decine di migliaia di vite umane vorrei ribadire ai colleghi della Lega che sono state salvate 19 mila vite umane e che noi non baratteremo mai un punto percentuale alle elezioni con 19 mila morti noi non baratteremo mai 19 mila morti con un punto percentuale alle elezioni questo lo fate voi l'Italia è una grande democrazia che ha l'obbligo che ha l'obbligo di garantire sicurezza che ha l'obbligo di garantire l'accoglienza che ha l'obbligo di rispettare i trattati internazionali e noi non faremo morire le persone in mare per 500 mila voti in più della Lega questo lo dovete ricordare perché noi siamo un grande paese ci faremo carico della sicurezza dei nostri cittadini e ci faremo carico di un'accoglienza dignitosa entrambe le cose al netto dei toni tipici della campagna elettorale il problema però c'è quel che sembra mancare la volontà o peggio ancora le competenze per intervenire e allora ecco una delle priorità che l'Europa dovrà sapersi porre dimostrare di poter affrontare i flussi migratori con una strategia comune come si confà ad una confederazione di stati e confermare per citare una dura presa di posizione del premier Renzi che dopo aver salvato le banche ora salverà anche bimbi e madri in fuga dalla disperazione Diceva anche Luca Pattarini nella copertina che ha aperto questa puntata di prima serata live inevitabilmente la campagna elettorale un po' inficia poi i toni del dibattito del confronto il problema però c'è noi cerchiamo di capire come mai si faccia così tanta fatica ad affrontare la questione allora diamo voce a chi rappresenta la forza politica che insieme al PD in modo particolare guida questo paese si trova a dover affrontare queste cifre che sono davvero impressionanti più 800 e passa per cento gli sbarchi nei primi quattro mesi del 2014 questa è davvero un'emergenza immagino anche difficile in qualche modo da immaginare da prevedere ma guardi io credo che voi abbiate fatto un'operazione molto interessante nell'unire questo problema tragico del flussi migratori con le elezioni europee perché io credo che coloro i quali ci andranno a rappresentare in Europa capiranno e dovranno avere efficacia nel sviluppare una politica unitaria rispetto ai flussi migratori evitando le polemiche interne che sono del tutto inutili perché evidentemente se noi dovessimo dire dovessimo dibattere sulla questione se è meglio o peggio aiutare la gente a casa loro o aiutarli all'interno del nostro paese credo che il 99% dell'opinione pubblica italiana è d'accordo nell'aiutare questi popoli al loro paese ma è difficile immaginare che lo possa fare l'Italia così come è difficile immaginare che l'Italia possa farsi carico da sola dei flussi migratori altrettanto è difficile pensare che lo si possa fare con una politica di presenza sul territorio di provenienza da parte di un solo paese europeo allora se mi permette io credo che nelle politiche dell'accoglienza nelle politiche delle solidarietà l'Italia per la sua tradizione cristiana per la sua tradizione di solidarietà non ha molto da imparare da nessuno credo che però possa avere molto da insegnare a livello europeo cioè da quegli stati che sostanzialmente non sono toccati da questo problema e ritengono che la questione si risolva dando qualche contributo all'Italia per affrontare questa tragedia lei dice non basta dare i soldi non basta dare i soldi bisogna sviluppare una politica estera comune altrimenti si tratta solamente di palliativi per evitare tragedie umane che non possiamo non evitare quindi è un po' come dire ribaltiamo l'approccio alla questione non aspettiamo che Bruxelles in qualche modo si accorga del problema italiano ma cerchiamo di essere noi a dettare l'agenda politica il problema è mondiale il problema europeo non lo si può affrontare con un solo paese l'unica cosa che può fare un paese è evitare che ci siano delle vittime e che evidentemente sono il fatto che credo tutti cerchiamo di evitare la politica estera dell'Europa deve essere una politica unitaria e deve essere innanzitutto una politica al momento questa politica non c'è Angelo Ciocca la Lega Nord è la forza politica che con maggior vemenza fa una battaglia invece contro la politica dell'accoglienza io banalizzo molto ma così il pubblico a casa capisce voi dite è impensabile che l'Italia si faccia carico di garantire accoglienza a tutti anche oggi tra l'altro rimaniamo sulla certissima attualità sei scafisti sono stati arrestati nel sud Italia e c'è stata bagarre in Parlamento proprio perché si stava discutendo della questione dei flussi migratori quindi il carroccio è molto duro con procedure certe e veloci anziché magari occuparsi di altre cose queste sono priorità anche per la giustizia italiana Ciocca prego il carroccio è molto duro nel senso che bisogna essere realisti e se uno è realista oggi la possibilità di accogliere altre persone il nostro paese non l'ha cioè il nostro paese sta attraversando un momento difficilissimo e oggi è folle pensare di poter accogliere qualcuno perché io resto pietrificato a vedere il ministro degli interni che si agita sta dicendo noi abbiamo salvato 19.000 persone io non lo so se ne ha salvate o ne ha fatte morire perché gli ultimi morti in mare qualcuno le responsabilità li ha le 3.800 aziende che hanno chiuso nei primi tre mesi dell'anno e tutti quei lavoratori che oggi sono in mezzo a una strada senza un posto di lavoro qualcuno ne ha delle responsabilità è chiaro che se uno pensa che basta salvare una persona in mare e tutto il resto non accada non è verità oggi c'è una strada sola quella di fare una politica di rispingimenti una politica rigorosa ma soprattutto anche una politica di informazione io sono convinto che molte persone vengono prese in giro e lasciano il loro paese convinti che qui si possa trovare chissà quale opportunità invece in realtà queste persone mettono in mano la loro vita a degli scafisti delinquenti e assassini e alcune volte abbiamo visto ahimè tragedie in mare che non ci vuole un ingegnere nautico per capire che sarebbero avvenute e questi scafisti e assassini forti di alcune azioni che oggi il governo fa perché togliere il reato di clandestinità vuol dire dare uno spot a questi scafisti e assassini che possono utilizzare nei paesi africani nel dire venite in Italia perché lì non vi fanno nulla in Italia vi danno delle opportunità quindi è fondamentale che invece arrivino messaggi forti di rigore ma anche dei messaggi del quale è la reale situazione dell'Italia cioè un momento estremamente difficile e lo spot che io ho fatto del quale ringrazio i cinque testimonial che sono i cinque stranieri che penso avete visto anche su questa rete ha questo obiettivo cioè quello di informare i cittadini di altri paesi del mondo che l'Italia oggi non è in grado di offrire nessun tipo di ospitalità perché fa fatica a dare risposte di prima necessità a chi questo paese l'ha costruito poi su questo aspetto torniamo anche perché l'iniziativa alla quale lei faceva riferimento ha sollevato anche qualche polemica però avete sentito un po' il fronte del dibattito oscilla tra due termini tra due espressioni che abbiamo usato anche per sintetizzare questo segmento di trasmissione nel titolo che vedete alle mie spalle emergenza migranti ci vuole la barriera servono barriere o l'accoglienza i rispengimenti ai quali faceva riferimento Ciocca tra poco con Matricardi di Amnes International cercheremo anche di capire perché l'Italia si trova nel cuore di questa emergenza voi continuate a scrivere 366 11 88 002 diretta chiocciola prima serata live punto it breve pausa pubblicitaria e poi insieme a Chiara Accendari daremo voce anche a chi ci segue da casa a tra poco ben ritrovati prima serata live su Telepavia Tele Sanremo questa sera parliamo dell'emergenza migranti che per un motivo o per un altro è forse l'unico tema sul quale si dibatte in vista delle elezioni europee del prossimo 25 di maggio Chiara Accendari i nostri ascoltatori hanno già risposto al nostro invito a interagire a dire a loro quali sono gli umori di chi ci segue da casa sì Claudio ci ha scritto Luigi da Pavia ha ragione la Lega Nord dobbiamo pensare prima agli italiani che ormai rischiano la povertà e poi ancora Sergio da Tortona da quanti anni si verificano gli sbarchi non si è mai fatto niente ora c'è polemica solo perché siamo in campagna elettorale poi l'emergenza finirà 366 11 88 002 due temi che raccontano due opinioni due approcci diversi è una questione che c'è ma io con Matricardi vorrei commentare intanto questo dato abbiamo preso un titolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa che fa effetto a leggerlo perché dice nei primi quattro mesi dell'anno gli arrivi dei migranti in Italia sono cresciuti dell'823% stiamo parlando di quasi 30 mila e passa persone che sono approdate o perché sono state soccorse in mare o perché sono arrivate con i loro mezzi di fortuna sulle coste in modo particolare della Sicilia della Calabria della Puglia ci spiega per quale motivo così tanti proprio adesso e da dove soprattutto Matricardi spiegare perché così tanti proprio adesso non è forse il nostro ruolo nel senso che ci occupiamo ovviamente di immigrazione dei diritti dei migranti e di quello che succede nei paesi rivolgendosi agli stati per cercare di chiedere delle soluzioni per questo dramma io mi richiamerei un attimo al secondo messaggio che c'è stato e cioè al fatto che certo un aumento di questo genere significa un'emergenza però sono credo almeno 10 anni che si parla di emergenza e migrazione in questi mesi probabilmente è avvenuto qualcosa di particolare però non si tratta più di un'emergenza da tanto tempo cioè i governi europei e i governi italiani dovrebbero sapere da tempo che il fenomeno dell'immigrazione è un fatto da affrontare non come emergenza come è sempre stato fatto non con leggi che creano situazioni che aumentano le difficoltà e aumentano il problema ma affrontato con una pianificazione e con una cooperazione anche internazionale che è quella che anche il governo italiano sta cercando attualmente l'emergenza c'è sempre stata quindi non è più un'emergenza sono almeno 20 anni che abbiamo un fenomeno in grande crescita in Italia aumentato 10 volte dagli anni 80 ad oggi l'arrivo degli stranieri e nello stesso tempo la mancanza di capacità dei governi non solo dico l'italiano di affrontare questi problemi e questi drammi ha portato ai 20.000 almeno 20.000 morti in mare per parlare solo di chi arriva dal Mediterraneo in Italia sono 2.000 morti all'anno 20.000 in 20 anni in 10 anni sono tantissimi quando un leader politico tipo Alfano qualche giorno fa dalle colonie del quotidiano la stampa diceva l'Europa non ci sta aiutando in realtà denuncia che cosa la sordità di Bruxelles l'incapacità dei governi locali di far rete oppure una difficoltà del paese ospitante l'Italia che da anni lei diceva quindi non è un problema di questo governo da anni si trova ad accogliere persone ma non riesce comunque ad arrivare a trovare il bando della matassa dove sta secondo lei la spiegazione più plausibile? Sicuramente ci vuole una cooperazione internazionale e una cooperazione a livello europeo c'è un'Unione Europea che dovrebbe avere delle politiche ben diverse delle politiche coordinate il problema dell'immigrazione non è un problema dei paesi confinanti con le popolazioni che arrivano in Italia abbiamo circa 4-4 milioni e mezzo di immigrati in Europa ne abbiamo oltre 30 milioni quindi è un problema comune in paesi come la Francia e il Regno Unito ci sono tradizioni di immigrazione molto più lunga dei nostri ultimi 20 anni quindi sicuramente siamo d'accordo sul fatto che vada affrontato con una cooperazione europea Amnesty International ha lanciato da tempo una campagna che si chiama SOS Europe il cui titolo è prima le persone e poi i confini che proprio richiama i paesi europei a un'operazione comune per affrontare il problema dei migranti dal punto di vista umanitario dal punto di vista dei diritti umani rispettando il fatto che i paesi hanno diritto a controllare i propri confini ma non a espellere senza nessun diritto le persone che arrivano magari richiedendo asili o fuggendo da situazioni drammatiche di conflitto e di persecuzioni quindi lei dice è un problema che investe l'Europa anche perché arrivano in Italia ma non vogliono arrivare in Italia no vogliono arrivare in Europa e spesso vogliono dirigersi in altri paesi altri paesi quindi arrivano in Italia perché noi abbiamo la sfortuna di essere distesi sul Mediterraneo oppure davvero abolire diceva prima Ciocca polemicamente anche altri leader del carroccio l'hanno detto hanno tolto il reato di immigrazione clandestina è uno spot a venire in Italia secondo lei sta in piedi questa ipotesi assolutamente in Italia abbiamo mi pare pendenti 25-28 mila richieste di asilo in altri paesi ne abbiamo molti di più in Germania dove già l'immigrazione è molto più alta che da noi è una percentuale decisamente più alta ne abbiamo 125 mila in Svezia vengono accolte moltissimo e ne hanno mi sembra 40 mila di domande di asilo una delle proposte di Alfano mi pare che fosse quella di dare la possibilità a chi arriva in Italia di chiedere asilo in altri paesi europei che penso che sia ragionevolissima proprio perché molti immigrati che arrivano da noi per vicinanza di territorio chiedono poi di andare altrove il reato di clandestinità che noi abbiamo sempre molto contestato sicuramente non aiuta a limitare l'immigrazione anzi semmai è un reato che mette in mano i clandestini proprio i criminali come gli scafisti li mette in mano quando arrivano sul suolo del nostro paese alla criminalità organizzata li mette in una condizione di ancora maggiore debolezza perché non hanno diritto perché hanno paura perché rischiano di essere arrestati e quindi anche non solo i migranti per ragioni economiche ma anche chi arriva per richiedere asilo si ritrova in una condizione disperata perché se si manifesta la propria identità poi poteva essere arrestato diciamo che la situazione è di per sé estremamente complessa è ovvio che richieda si vuole rendere complicata perché se nel renderla complicata si penalizza un paese a vantaggio di altri è chiaro che è complessa mi spiego questa Europa è un'Europa che non si interessa alla clandestinità è un'Europa che lascia la clandestinità sulle spalle dei cittadini italiani e i cittadini italiani poi devono correre con la competizione europea e quindi è un dato di fatto c'è un progetto europeo criminale che scarica sull'Italia la clandestinità senza aiutarci gli unici aiuti che ci dà l'Europa per la clandestinità è l'accoglienza e voi capite che è come dare il miele all'orso più gli metti miele e più arriva l'orso e qui è uguale che se aumenti l'accoglienza aumentano ovviamente i clandestini che arrivano nel nostro paese se i clandestini li prendi dalle coste del nostro paese li porti al nord e li metti come è capitato a San Genesio l'abbiamo visto tutti in un albergo di lusso con moquette sauna piscina e palestra è logico che diventa difficile respingere i clandestini e non fare in modo che queste persone rischiano la vita per arrivare in Italia perché chi arriva in un albergo di lusso chiama a casa e dice venite anche voi perché qui ci sono grandi opportunità è chiaro che con questo modello è difficile affrontare il problema allora al di là dell'albergo di lusso non so se vadano a dire queste cose come una meta di miniatura penso che anche a lei capita arriva in un albergo chiamerà a casa e dirà mi trovo bene e mi trovo male siccome lei sa che i clandestini hanno diritto alla tessera telefonica e quindi quella tessera telefonica la useranno quando arrivano che dimentichino la loro condizione di clandestino lo sapranno però penso che gli illudi se tu li metti in una condizione di piacere li prendi in giro e fai il loro male perché li illudi che possano aver trovato finalmente una situazione che l'Italia in realtà non è in condizione di offrire però la tema è e mi piacerebbe sentire il loro pensiero ma perché l'Europa non aiuta perché questa Europa in modo criminale non aiuta l'Italia nella clandestinità se non dando i soldi per i centri di prima accoglienza poi parliamo dei soldi perché è un tema sul quale anche l'opinione pubblica si divide abbiamo anche sentito prima qualche ascoltatore che va in questa direzione però dice in sostanza Ciocca noi li trattiamo troppo bene guardi se il problema rimane il problema di come l'Italia affronta questa situazione è chiaro che all'interno ci sono mille contraddizioni nelle soluzioni nei percorsi e che all'interno di queste contraddizioni ognuno di noi possa cercare le enfatizzazioni possa cercare alcune situazioni che chiaramente sono stridenti con una realtà sociale italiana dove ci sono molti poveri anche italiani che sono in condizioni di disagio e che rischiano di non capire certe situazioni ma riportiamoci al dato di partenza non è che rischia di non capire non sono comprensibili non è accettabile rischiano di non capire perché evidentemente il dato di partenza queste persone da cosa scappano scappano dal fatto che hanno una condizione media di vita e quindi vogliono migliorare scappano dal fatto che vogliono iscriversi all'università tedesca piuttosto no scappano dalla guerra scappano dalla morte scappano dalla violenza scappano dagli odi tribali che si sono scatenati in alcune parti del mondo scappano dalla desertificazione del mondo scappano da queste cose qua quindi uno che scappa dalla paura digli che qui c'è il reato non c'è il reato c'è l'albergo credo che sia del tutto indifferente dobbiamo cercare di evitare che ci siano situazioni di questo la Chiesa Cattolica ci ha insegnato bene con questo spirito missionario quello che tutti noi vogliamo dire dobbiamo aiutarli a casa loro allora per aiutarli a casa loro bisogna che a casa loro ci siano le condizioni per essere aiutati che non ci siano le guerre perché se noi vediamo quali sono i flussi migratori sono flussi migratori precisi allora se qualcuno pensa che si aiuti il Nord Africa la Siria l'Egitto la Tunisia l'Algeria si aiutino andando a bombardare ora quello la Libia ora questo ora quello credo che si sia sbagliata l'impostazione credo che si debba iniziare ad avere un rapporto forte quindi una politica estera forte europea lei pensi alla polemica sul costo degli armamenti italiani la marina gli aerei ma se ci fosse un esercito europeo non si parlerebbe più di queste cose ci sarebbe un esercito più efficiente un esercito sicuramente all'altezza delle altre potenze mondiali è un esercito che costerebbe immensamente meno rispetto a quanto costa l'esercito italiano tedesco francese eccetera questo è la situazione allora si vota per l'Europa facciamo un appello ai nostri deputati europei che andranno a rappresentarci creiamo questa Europa perché è un'Europa che non ha una politica economica non ha una politica estera non ha niente di niente non è ancora in Europa dobbiamo cercare di realizzare l'Europa al momento noi fronteggiamo le emergenze e sulle emergenze la persona ha i diritti e ha la sua dignità che deve essere rispettata Mattricardi adesso le do la parola ma prendo spunto da questo che dice Newton del nuovo centrodestra perché credo che sia interessante introdurre anche la questione economica sempre la Lega dice vabbè ma ok se arrivano accogliamoli però l'Italia con l'operazione Mare Nostrum Mare Vostrum Mare Nostrum Mare Vostrum va bene Mare Nostrum Mare Shum va bene torniamo ai tempi del liceo no l'operazione Mare Nostrum di fatto garantisce un servizio di soccorso ai barconi che sono in difficoltà anche perché non partono su navi da crociera questi disperati in fuga dalla fame e dalla guerra allora in cifre va detto che l'Europa qualche contributo lo dà ma anche l'Italia tira poi fuori dei soldi allora intanto abbiamo detto che dall'inizio dell'anno sino a aprile 2014 sono arrivati tra Sicilia Puglia e Calabria 26.000 e passa migranti 2780 erano invece le persone che erano sbarcate nell'anno precedente quindi probabilmente c'è una serie di emergenze che li spinge a fuggire molto di più che adesso 9 milioni e mezzo di euro è la cifra che costa al governo italiano l'operazione Mare Nostrum quindi i mezzi della marina italiana che vanno a soccorrere pattugliando il Mediterraneo il canale di Sicilia le imbarcazioni di difficoltà 120 milioni se consideriamo la spesa su base annua 12 milioni sono a quanto risulta dagli archivi i fondi che l'Europa garantisce all'Italia per la sola assistenza umanitaria e quindi già capiamo che spendiamo molto di più di quanto in qualche modo ci ritorni dall'economia comunitaria però attenzione perché qualche progetto l'Europa l'ha messa l'ha messo in campo intanto c'è Fortex che è questa agenzia che dovrebbe garantire come dire il pattugliamento delle difese scusate dei confini allora la domanda che noi ci poniamo è ma l'Europa riesce a far fronte all'emergenza poi detto in termini molto molto franchi e allora abbiamo credo una grafica eccola qua 48 aerei ed elicotteri 113 navi e motovedette 600 milioni fondi stanziati dal 2005 ad oggi 89 milioni i fondi annunciati perché pare non ci sia ancora la copertura per il 2014 poi ci sono altri due progetti che vediamo molto velocemente che sono Eurosur che è una sorta di sorveglianza nei paesi del Mediterraneo questo costa 42 milioni di fondi comunitari e poi c'è Eubam che è una sorta di supporto che viene data alla Libia che è uno dei principali paesi del Nord Africa da cui questi disperati scappano 30 milioni di euro io in matematica ero un asino ma un po' di risorse vengono stanziate dall'Europa eppure l'Italia deve mettercene del suo che cos'è che non funziona in questo sistema ma Tricardi beh tanto le risorse che mette l'Europa proiettandole sugli anni sono pochissime rispetto a quelle che mette l'Italia o che mettono altri paesi quindi c'è una disequitale Frontex ha messo 600 milioni dal 2006 al 2012 2013 quindi in 7 anni quando l'Italia diceva 120 milioni all'anno a me risultava circa 1 miliardo e 600 milioni quasi 2 miliardi nei 20 anni quindi una proporzione assolutamente sbilanciata pensando che siamo un paese dell'Europa quindi l'Europa fa molto poco ma poi si tratta di capire come vengono spesi questi soldi perché appunto l'operazione Mare Nostrum non ha solo l'obiettivo di garantire il soccorso in mare ma anche quello di perseguire gli scafisti di perseguire la criminalità che lucra su questo e questo è un aspetto positivo poi non è forse l'ideale per risolvere il problema è solo un aspetto ma la cooperazione sia europea sia quella italiana mi preme ricordare negli accordi bilaterali che da tanti anni abbiamo con la Libia e anche con la Tunisia rinnovati l'anno scorso nel 2013 sono accordi che prevedono delle cifre spaventose in particolare con la Libia c'è un accordo di 50 miliardi che lo Stato italiano dà alla Libia col pretesto o comunque le ragioni dei rimborsi per i danni del colonialismo e della guerra coloniale però questo un patto stabilito con Gheddafi è un patto che garantisce il controllo delle frontiere da parte della Libia e quindi non un'assistenza un controllo delle frontiere grazie anche ai nostri militari nostre navi nostri aerei per cui la Libia contiene al suo interno l'immigrazione verso il nostro paese e Amnesty International ha fatto di recente una missione nei centri di detenzione libici sono dei centri spaventosi dove avvengono torture violenze sessuali stiamo parlando di uno Stato che ha una tradizione di violazione dei diretti umani tra le peggiori del mondo nonostante la rivoluzione la situazione non è cambiata immaginiamoci cos'è un centro di detenzione per migranti subsahariani che vengono senza identità senza documenti senza niente nell'Africa nel deserto libico dove i militari o le guardie possono fare quello che vogliono quindi situazioni spaventose che il governo italiano rischia di finanziare e che l'Europa io non conosco abbastanza bene il programma europeo di accordo con la Libia rischia di finanziare ora questa cooperazione deve andare in un'altra direzione ecco le posso chiedere una cosa Mare Nostrum lo diceva anche ciocca polemicamente in realtà è un qualcosa che l'Italia fa in più dove sta scritto che deve essere l'Italia andare a soccorrere i barconi nella misura in cui gli aerei dell'Europa restano a terra beh sta scritto nelle norme internazionali solo il diritto del mare ti impone che se c'è una barca che affonda la devi soccorrere anzi diciamo è un atto umanitario però ci sono anche delle regole che in qualche modo siamo tenuti a rispettare poi non dimentichiamoci che c'è un diritto internazionale che dice cose che vanno molto più in là di quello che fa l'Europa e che fa l'Italia dice che c'è il diritto al non reformat al non respingimenti cioè che la gente che arriva su solo il nostro paese che venga da situazioni di conflitto di dramma o altro ha diritto comunque all'accesso per una procedura di richiesta d'asilo quindi dovrebbe avere qualcuno che lo aiuta nelle traduzioni nell'interpretare quello che viene detto qualcuno che gli chiarisce quali sono le norme un ufficio legale insomma degli uffici di frontiera quello è un modo per spendere bene i soldi che garantisca i diritti e che aiuti anche a distinguere chi arriva perché richiede asilo e chi arriva invece perché richiede accesso al lavoro che è un altro aspetto ma forse diverso l'ufficio dei diritti è anche un ufficio che gli spieghi i doveri? Certo non ci mancherebbe perché uno mette il piede sulla nostra terra e tutti ci preoccupiamo di dare i diritti io mi auguro che gli spieghiamo anche i doveri ma certo ma poi io non ho visto gente arrivare e andare negli alberghi di lusso ci sarà stato magari anche questo episodio io vedo migliaia e migliaia di migranti che arrivano sul nostro paese che vanno nei centri di identificazione ed espulsione questa televisione fortunatamente ha filmato che nove persone nove persone sono partite da Lampedusa e sono arrivate a San Genesio e sono state messe in un albergo di lusso non è se è la verità lo Stato ha il dovere di dare una sistemazione alle persone che arrivano senza soldi senza sistemazione di dare da mangiare questo dovere ce l'ha anche nei confronti dei nostri cittadini che dormono sotto i ponti o fuori dalle stazioni o in mezzo alle strade ce l'ha anche verso i nostri cittadini non credo che l'immigrato disperato che arriva rubi il lavoro al disoccupato al di là di questo se lei mi lascia finire poi penso che avrà la parola parlavo dei centri di identificazione e di espulsione ci tengo il suo parere su questo scusi stiamo parlando una cosa serissima lei sta dicendo che un clandestino o un immigrante non porta via nulla all'italiano siccome abbiamo visto primo un dato 120 milioni quei 120 milioni oggi sono dei cittadini italiani allora le sembra giusto che i cittadini italiani dormano sotto i ponti o in mezzo a una strada e i cittadini clandestini invece vengono messi in un albergo di lusso a me piacerebbe sentire da lei una risposta la risposta è che i cittadini non vengono in genere messi in un albergo di lusso ma vengono messi nei centri di identificazione ed espulsione c'è un caso concreto c'è un caso concreto è capitato la domanda è semplice c'è un caso concreto non conosco questo caso concreto però la invito a ragionare in un modo diverso ma questo caso concreto è un'ingiustizia sì o no? ma io non lo conosco non lo so lei non lo vede io dico però un aspetto è fondamentale ragionare in un modo diverso non possiamo pensare che quei soldi che sono tantissimi visti dal cittadino comune ma sono pochissimi visti per la comunità internazionale siano soldi rubati alla povera gente che non ha lavoro noi dobbiamo ragionare credo tutti quanti non solo nell'ottica di Amnesty International ma nell'ottica di chi fa politica di chi governa ad affrontare un problema mondiale del quale al di là degli aspetti umanitari delle scelte personali ogni problema non risolto ai nostri confini è un problema che si ripercuote anche dal punto di vista economico si può preoccupare dell'emergenza mondiale nella nostra economia si ha risolto l'emergenza nazionale nell'ultima parte si può occupare dell'emergenza mondiale ma l'emergenza globale deve arrivare dopo l'emergenza nazionale lei deve risolvere il problema nazionale prima di quello globale allora facciamo una cosa ci fermiamo per un attimo nell'ultima parte di trasmissione e cerchiamo di capire concretamente visto che tra poco c'è la mia tesi secondo la quale il problema nazionale il problema globale si risolvono ad un livello superiore che deve essere ancora costruito e forse riusciamo a risolverlo a quel livello lì probabilmente questo è un po' il bandolo della matasse del motivo per il quale quando si va a votare il 25 maggio vogliamo bene c'è un referendum c'è un referendum non lo so me lo dice dopo il referendum pubblicità se no siamo in ritardissimo 366 11 88002 e poi diamo voce anche a voi che ci seguite da casa grazie prima serata live dunque tema caldo quello dell'emergenza migranti che l'italia da sola fronteggia da anni tanto che ormai non si può più parlare di un'emergenza eppure eppure si fatica a trovare una soluzione per quanto credo che sia difficile riuscire ad arrivare davvero all'equilibrio ideale molti messaggi anche da parte di voi che ci seguite da casa allora con Chiara accendali rapidamente un po' di opinioni Chiara si Claudio ci ha scritto Paolo da Magenta pensare di fermare l'immigrazione è pura utopia c'è sempre stata e sempre ci sarà e poi ancora Andrea da Pavia bisogna capire che non siamo più in grado di aiutare tutti ora l'Italia deve pensare a sé e poi Marina da Genova ci lamentiamo noi che siamo a migliaia di chilometri da Lampedusa mentre chi vive là si rimbocca le maniche e dà aiuto dovremo prendere esempio da loro opinione pubblica almeno il campione che segue questa puntata di prima serata live come sempre su Telepavia saremo piuttosto diviso negli approcci a questa questione che torna poi alla ribalta anche quando si verificano delle sciagure drammatiche solo pochi giorni fa ricorderete un barcone che ha affondato nel canale di Sicilia con 17 morti l'avrete letto sui giornali noi abbiamo dalla nostra rassegna stampa estrapolato credo un titolo del secolo XIX che fotografava la tragedia o anche di Repubblica va benissimo perché questa che la regia vi fa vedere grazie a Massimo Cazzago che ci propone questo titolo di Repubblica Lampedusa strage di migranti barcone a picco centinaia di morti se non ricordo male lo chiedo al rappresentante di Amnesty fu quella tragedia all'isola dei Conigli che poi fece mobilitare l'Italia e la fece varare questa operazione Mare Nostrum di cui tanto abbiamo parlato stasera giusto? dopo quei oltre 300 morti ci fu si decise di fare qualcosa e allora io chiedo a Maurizio Niutta del nuovo centrodestra abbiamo sentito in apertura di trasmissione un Alfano molto accalorato nel dire noi non metteremo mai la vita umana prima di altre cose però è ovvio che questa è una questione difficile da gestire anche sul fronte interno vede allora distinguiamo la situazione a livello nazionale internazionale la programmazione di queste situazioni con la questione dell'emergenza allora sull'emergenza io credo che si debba iniziare a dare atto a quelle migliaia di persone di organizzazioni di sacerdoti di volontari di tutti i settori del no profit che si sono organizzati che sono intervenuti nella situazione di emergenza sono esempi splendidi sono esempi di una solidarietà che è una solidarietà nostra della nostra cultura che però va tutelata perché non si può approfittare di questo nostro senso di solidarietà per rilanciare solo sull'Italia queste questioni a livello europeo ed internazionale bisogna che queste questioni siano portate all'attenzione come priorità assolute dopodiché all'interno di queste priorità una politica che sia una politica coordinata fra tutti gli stati europei e non dei singoli stati a mio avviso è molto più produttiva ma non solo sul settore dell'immigrazione su tutti i settori compreso quelli del tessuto socio-economico interno quindi della ripresa economica delle opportunità di lavoro delle opportunità per i nostri giovani allora io voglio dire ancora una cosa credo che l'Europa così come a livello di Nazioni Unite quando si parla dei doveri dei singoli stati e noi siamo sempre tra quelli che quando si parla di dovere si mettono sugli attenti si impegni anche a far rispettare quelle che poi sono le situazioni conseguenti rispetto agli impegni e le voglio portare un caso solo il caso dei nostri due Marò che sono ancora in India perché stavano cercando di tutelare il diritto internazionale di chi naviga di non essere aggredito dai pirati allora diciamo che a livello internazionale si occupino anche di queste cose ci chiedono i diritti i doveri e ci tutelino anche quando noi rispondiamo perché rispondavamo all'esigenza internazionale all'esigenza che la gente possa lavorare sugli oceani sui mari senza dover essere aggredita sequestrata e violentata da tutte queste organizzazioni criminali che stanno infestando tutti questi paesi così arriviamo anche a situazioni più concrete allora diciamo che sono due vicende diversissime però c'è un deficit secondo me che la comuna è il deficit di due istituzioni anche l'ONU se non ricordo male non è voluta intervenire in questa vicenda dicendo è un problema italiano è un problema italiano la difesa del diritto internazionale è un problema italiano l'organizzazione su fronte di questa emergenza è un problema italiano e questi italiani viva Dio di quante cose si devono far carico con tutte le nostre difficoltà interne e tutti i disagi interi allora però siccome voi avete toccato un tema cruciale che è quello dell'Europa ok prima Matricardi diceva c'è un aspetto tra le richieste che l'Italia dice di aver fatto da tempo all'Europa che potrebbe essere importante per rappresentare un punto di svolta allora intanto le richieste che l'Italia ha fatto a Bruxelles poi se avete letto i giornali o sentito i telegiornali nazionali pochi giorni fa si è discusso se è arrivata o no la lettera ufficiale con la quale lanciare in qualche modo la richiesta di SOS a Bruxelles sono come quelle lettere che scrivevano per far cadere i governi del centrodestra queste lettere qua adesso non buttiamola sul discorso strettamente politico allora che cosa chiede che cosa chiede l'Italia a Bruxelles accoglienza umanitaria in Africa che è un po' quello che dice anche la Lega Nord cioè evitiamo che questa gente parta mettendo a rischio la propria vita soccorso in mare europeo cioè sia l'Europa a intervenire e non più soltanto l'Italia il trasferimento della sede di Frontex e poi nuove regole per l'asilo politico perché la Lega li definisce clandestini in realtà in teoria loro vengono qui a chiedere asilo politico quindi non sono o no come è che sono profumi senza documenti scusate è semplicissimo ve lo dice uno che se l'è fatto spiegare da Maroni che ha fatto il ministro degli interni però Maroni è della Lega pure lui però ha fatto il ministro degli interni e penso che è stato il miglior ministro che abbia avuto questo paese perché purtroppo quello che oggi è accaduto è che qualcuno ha perso la vita in mare e nessuno ha messo in discussione il ministro degli interni e questo secondo me è un fatto gravissimo non fa anche le azioni di salvataggio direttamente io ritengo che oggi come sta operando questo ministro degli interni sia un disastro però poi lo valuteranno i cittadini quando invece ha operato il ministro degli interni Maroni penso che è stato un ottimo ministro degli interni giustamente la spiegazione che dà Maroni e io quando li chiamavo profughi mi diceva no sono clandestini perché arrivano senza documenti quindi arrivano senza documenti non sai da dove arrivano diventeranno profughi una volta che hanno identificato da dove arriva una volta che hanno definito qual è la motivazione per il quale sono arrivati ma non vale la presunzione di innocenza è troppo questo è il trucco italiano il trucco italiano il trucco italiano qual è oggi che siccome arrivano senza documenti li chiamano profughi no oggi arrivano senza documenti sono clandestini fino a quando non vengono identificati ma Tricardi qui siamo nel campo delle opinioni c'è un diritto internazionale che da decenni stabilisce quali sono le regole e che i paesi più sviluppati ma anche la maggior parte dei paesi e comunque i paesi europei hanno ratificato e avrebbero dovuto implementare all'interno delle proprie norme il termine clandestino non esiste nel diritto internazionale nasce dal fatto che viene usato negli ultimi 15 anni la gente che arriva sul nostro paese ha il diritto secondo il diritto internazionale a poter accedere alla richiesta di asilo come rifugiato politico oppure come richiedente asilo per altri motivi questo è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto quindi prevede appunto non prevede la possibilità di respingere un cittadino che arriva un essere umano che arriva anche senza documenti perché deve poter accedere poi gli può essere rifiutato il diritto all'asilo perché non ne ha i requisiti però quanto tempo però è importante spiegarlo quanto tempo ha il tempo viene determinato dagli stati ma qual è il tempo massimo in Italia questo va detto in quel momento lì fino a quando non è accertato lo stato di profugo quella persona dovrebbe stare nei centri di prima accoglienza non deve girare per il paese il tempo massimo in Italia spesso è stato zero ci sono stati diversi casi di cittadini durante la guerra in Libia di cittadini di gente che arrivava dalla Libia dall'Africa arrivati sul suolo italiano in Sicilia messi su un aereo e rispediti dal paese da dove venivano senza sapere se venivano da una situazione di conflitto molto probabile di quale paese erano dove andavano a finire se rischiavano la pena di morte o la tortura nel paese dove venivano rimandati che era la Libia tra l'altro quindi il tempo spesso è zero se il tempo c'è spesso non c'è l'accesso come dicevo al minimo a una traduzione a capire che cosa ti sta succedendo che cosa puoi fare quindi questo è quello che prima di tutto va fatto ma non perché si può fare ma perché si deve fare ce lo dice il diritto internazionale perché c'è un diritto internazionale che lo pone allora credo che ma se noi dovessimo andare nei paesi dove provengono questo diritto internazionale esiste? cioè se io parto con 5 o 6 disoccupati questo è un altro problema certo che il lavoro va fatto verso quei paesi la comunità internazionale per prima dice attenzione ai paesi dove si vengono i diritti attenzione anche alla cooperazione alla collaborazione deve essere una collaborazione dove promuoviamo un cambiamento in quei paesi non dove promuoviamo finanziamo i centri di detenzione stiamo attenti che non dobbiamo solo pensare ai diritti dei clandestini dobbiamo pensare anche ai diritti dei cittadini italiani perché quando io incontro un ragazzo in carrozzella e mi dice ciocca ma perché oggi c'è un'attenzione da un punto di vista economico ad esempio ai clandestini e non ai disabili io non so cosa rispondere io non so cosa rispondere poi mi perdoni io capisco il suo approccio però forse allora bisognerebbe che tutti noi come adesso tra un attimo metteremo sul banco degli imputati l'Europa ci chiediamo chi ha governato questo paese negli ultimi 10, 20, 30, 40, 50 anni e nel momento in cui ha recepito delle direttive internazionali non si è preoccupato senza fare chi viene prima chi viene dopo il problema di della possibilità di farlo di aiutare anche gli italiani che sono in difficoltà anche se attenzione l'abbiamo visto anche in alcune immagini prima le persone che fuggono io vorrei dirlo perché poi si parla di numeri ma non si capisce è gente che scappa dalla miseria è gente che scappa dalla fame dalla guerra dalla morte dalla paura guardate io tra l'altro grazie alla regia che ce lo fa vedere ma perché noi parliamo di più 800% ma questi 30.000 che sono scappati e sono arrivati a Lampedusa vivono in quelle condizioni che adesso state vedendo e credo che sia un punto di partenza fondamentale poi ognuno è libero di pensarla come vuole la politica evidentemente anche su questi temi fa campagna elettorale come è giusto che sia la domanda è io chiedo qui a Ciocca e chiedo qui a Agnutta cioè che cosa allora non funziona se l'Europa dopo anni e anni di polemiche e di richieste adesso non attacchiamoci all'ultima lettera che Bruxelles dice non è mai arrivata sul tavolo del commissario ci sono anche le altre lettere ci sono anche le altre decine e decine e decine di tragedie come queste perché l'Europa non ha preso provvedimenti posto che l'Europa scusatemi è fatta anche dai politici italiani che siedono a Strasburgo che cos'è che non funziona? ma oggi che non funziona è un'Europa che non cura gli interessi dei paesi membri ma anzi mette in guerra un paese con l'altro perché questa difficoltà dell'Italia giova ovviamente ad altri paesi europei cioè questa azione che mette in ginocchio l'Italia e che i governi italiani alimentano perché c'è un effetto reclutamento se togli un reato di clandestinità quello li diventa uno spot per fare effetto del reclutamento se nei programmi elettorali del PD alle europee scrivi che dai la cittadinanza europea a chi resta nel nostro paese per lunga permanenza e non si riesce a capire cosa vuol dire lunga permanenza cioè la cittadinanza la dai per lunga permanenza è uno spot per far arrivare altra gente quindi oggi questa Europa è logico che così come è fatta e noi vorremmo cambiarla purtroppo siamo in pochi a volerla cambiare questa Europa gioca sulla disgrazia dell'Italia d'altronde se tu hai una competizione tra imprese tra lavoratori tra giovani e i giovani italiani o le imprese italiane o le famiglie italiane hanno uno zaino più pesante degli altri paesi è logico che arriviamo dopo e allora l'Europa gioca ad appesantire il nostro zaino questo è l'assurdità il problema è che noi tiriamo in ballo l'Europa però a Bruxelles a Strasburgo ci sono anche i parlamentari italiani gli europarlamentari italiani ma non funzionano non funzionano le procedure non funzionano le istituzioni parlamentari con tutta la loro volontà in una situazione come questa se non c'è una volontà superiore da parte dei governi che compongono l'Europa sarà difficile lei ha ricordato all'inizio che si perde del tempo sulla curvatura del cetriolo e non si parla e non si prendono provvedimenti seri su queste situazioni credo che questo la dica tutta allora il problema di fondo è ritornare a chiedere ci sono queste elezioni avremo nuovi rappresentanti in Europa e comunque abbiamo nuove esigenze che sono esigenze internazionali che non riusciamo più a rinviare perché quelli arrivano reato o non reato arrivano perché la guerra fa paura perché la fame fa paura a fronte di queste cose credo che si debba prendere delle soluzioni voglio però dire una cosa non facciamo confusione tra il reato di clandestinità e il fatto che all'interno di questo paese ci sia una situazione anche a livello organizzativa statale che lascia qualche preoccupazione perché se come ha detto il rappresentante di Amnesty in queste carceri di questi paesi nordafricani c'è da avere addirittura paura ad entrare ricordiamo che i primi ricorsi contro il sovraffollamento nelle carceri in Italia sono stati proprio proposti da cittadini di questi paesi e che la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha dato ragione a questi signori forse non parametrando le situazioni delle nostre carceri con le situazioni delle loro carceri posso dire una cosa ci hanno fatto un favore credo che sia vergognoso avere delle carceri italiane ma quelle sono peggio ma quelle sono peggio ma quello sicuramente lei pensi che sono arrivati da quei paesi disastrati e hanno fatto ricorso per dire che la Corte di Giustizia della Comunità Europea invece di occuparci di non far arrivare queste persone si occupa di sanzionare noi Matt Ricardi non credo sia cambiato molto ma finché c'era il reato di clandestinità credo che il 65-70% dei detenuti italiani fossero stranieri e ricordo che il costo medio di un detenuto in Italia sono 53 mila euro quindi anche all'anno il reato di clandestinità si porta dietro anche questo aspetto che per noi è poco influente però è molto significativo allora io sono convinto che su questo tema dovremo tornare per cui se siete d'accordo vi rinvito perché mi sembra un argomento caldo di tornare con delle risposte e mi auguro che si faccia lobby per affrontare realmente questo problema a vantaggio dell'Italia non a vantaggio della Germania lo diciamo a tutti gli europarlamentari ci lasciamo con un ultimo messaggio grazie Chiara Cendali l'ultimo che è arrivato così non scontentiamo nessuno c'è scritto Alberto da Savona prima di seminare odio pensiamo che un giorno potrebbe capitare anche a noi di dover lasciare la nostra terra grazie a tutti buona serata speriamo di no grazie per questa nota di ottimismo con la quale vi auguriamo una serena notte un sereno weekend appuntamento alla prossima settimana prima serata live grazie a tutti grazie a voi grazie